Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo mio nuovo video, un saluto da Gigi ed oggi siamo qui ritornati su Brawl Stars per andare a provare in anteprima in esclusiva il nuovo brawler cromatico RT, il nuovo brawler del nuovo Brawl Pass che avrà ovviamente anche una skin alla fine del pass, andremo a provare pure quella andremo a provare anche l'altra nuova skin, quella a forma di poliziotto che è stata presentata sempre nel Brawl Talk e andremo a vedere tutte le sue abilità, tutti i suoi gadget, come funziona, come non funziona e quant'altro mi raccomando lasciate un bel mi piace per supportare questa tipologia di video sneak peek iscrivetevi al canale se ancora non l'aveste fatto, ma soprattutto utilizzate il codice creatore GGYT tutto attaccato nel shop di Brawl Stars, fondamentale per supportarmi, lo potete inserire anche in tutti gli altri giochi Supercell allora innanzitutto andiamo a vedere la maestria, ovviamente il percorso può variare, può cambiare nel momento in cui esce l'aggiornamento quindi tutte le ricompense potrebbero cambiare, però il titolo, quell'icona e la reazione tecnicamente dovrebbero rimanere quelle e il suo titolo è Il Guardiano, molto figo per quanto riguarda tutto il discorso delle maestrie, dei titoli eccetera, l'abbiamo già visti nel video di ieri quindi recuperatevelo nel caso in cui ve lo foste perso poi andando a leggere invece le sue statistiche base ha 7200 di salute, che non è per niente poco calcolando che a 1500 danni è una portata molto lunga quindi è praticamente un long la velocità di movimento non è neanche così lenta, è normale addirittura e RT spara un singolo proiettile che marchia i brawler nemici colpiti i danni inferti agli avversari contrassegnati sono maggiori, ma consumano il marchio in che senso? quando voi colpite un avversario, gli verrà rilasciato un marchio che gli rimarrà per determinati secondi quando voi lo andrete a riittare o un vostro compagno lo andrà a ricolpire subirà molti più danni di quelli che subirebbe normalmente però una volta che lo andate a colpire, il marchio piano piano scomparirà quindi velocizzerà il tempo per cui rimarrà ovviamente lì sul brawler nemico la velocità di ricarica del colpo è sempre normale ma attenzione perché qui poi ci sono le statistiche della super perché ha una ulti molto particolare sdoppiamento, RT separa il corpo dalle gambe che rimangono sul posto lo sdoppiamento permette a RT di muoversi più velocemente e conferisce a entrambe le parti un potente attacco a corto raggio che marchia i nemici quindi anche la hit della ulti marchia i nemici con lo stesso funzionamento dell'attacco normale lui si divide in due ed entrambe le parti sia quella che rimane sul posto ovvero le gambe che è la parte superiore del corpo che va in giro e diventa molto rapida vedete che la velocità di movimento è molto rapida e la salute è sempre 7200 quindi avete un tank molto rapido che ha più o meno il colpo di Jackie e fa più o meno sempre anche il danno di Jackie perché fa 1860 di danno la portata però qui è corta quindi dovrebbe essere un po' più piccola però la tipologia è quella e soprattutto anche le gambe che rimangono sul posto fanno il colpo dopo lo andremo a vedere la velocità di ricarica è normale e quando voi volete sostanzialmente andare a bloccare la ulti praticamente recupera anche 1000 punti salute che non è per niente male il primo gadget è puntatore RT lancia un segnale alle gambe quindi quando ha la ulti sostanzialmente quando voi siete divisi dal corpo principale lancia questo segnale alle gambe rallentando i brawler nemici che si trovano in mezzo e causando i loro 500 punti danno molto interessante ma credo sia anche un po' difficile da usare ma dopo lo andremo a vedere poi abbiamo attivatore di marchi permette a RT di causare istantaneamente danni a tutti i brawler nemici con un marchio attivo cioè comunque lavora molto su questo discorso dei marchi poi spina nel fianco i marchi lasciati sui nemici durano 3 secondi in più piedi saldi invece l'altra abilità stellare RT le sue gambe subiscono il 20% di danni in meno quando si dividono perfetto ragazzi io direi di mettere spina nel fianco e puntatore ma tanto dopo andremo a provare anche l'altro gadget e l'altra abilità qui ragazzi io direi di mettere difesa e danni e direi di andarlo a provare in arraffagemme ragazzi vediamo un pochettino quello che riusciamo a combinare allora vediamo un attimino subito effettivamente sul campo quanto è veloce beh sì vabbè ovviamente è un po' lento ma neanche troppo cioè vedete è più veloce di 8 bit per esempio la portata è immensa 1500 di danni però adesso Penny è marchiata e gli ho fatto 3000 no vabbè raga imbarazzante perché Penny era marchiata gli ho fatto 3000 cioè e comunque come abbiamo visto il marchio rimane un bel po' perché abbiamo l'abilità stellare che gli fa rimanere il marchio per 3 secondi in più ora vediamo un attimino la ulti utilizziamola un attimo vedete io quando vado a colpire sia le gambe che il corpo principale ittano sostanzialmente ragazzi se muori muori quindi muore sia il corpo principale che le gambe muore tutto quanto purtroppo ma non ho provato il gadget non ho fatto in tempo a provare il gadget comunque veramente devastante cioè è velocissima la testa quando si stacca dalle gambe allora fermi un attimino devo ricaricare la ulti perché non abbiamo ancora provato nemmeno il gadget ragazzi cioè non abbiamo neanche provato il gadget mannaggia la miseria non riesco a vittare quella tara oh mio dio tra l'altro c'è anche Bell anche Bell c'ha il marchio cioè se giocate tra Bell e RT fate il devasto allora vediamo un attimino il gadget provo ah vedete lancia il segnale e tutti quelli che vengono colpiti sostanzialmente subiscono 500 di danni e vengono rallentati però è difficile da usare cioè guardate il segnale guardate vedete parte il segnale va è molto veloce ma non lo so forse preferisco l'altro gadget dopo lo proviamo comunque ragazzi lo potete usare come un brawler normale cioè voi andate in giro prendete le gemme fate tutto quello che dovete fare tra l'altro ragazzi è velocissimo cioè con la difesa c'ha pure 7800 di vita voi andate con questa hit tra l'altro la cosa bella è che voi date una hit marchiate l'avversario gli date un'altra hit e gli fate praticamente il doppio di danni cioè è una cosa devastante ragazzi sta cosa del marchio veramente forte 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 il gadget non mi ha fatto impazzire vi devo dire la verità cioè nel senso può essere utile però forse l'altro è meglio vediamo allora innanzitutto proviamo l'altra skin e questa qui è quella finale del pass ragazzi bellissima un po' creepy con questa cosa della testa e si stacca il polipo va bene però è molto carina e questa ragazzi cioè può essere molto utile perché quando hittate più di una persona e fate danni a tutte le persone insomma diventa abbastanza potente mentre per quanto riguarda la ulti forse questa cosa che rimangono i marchi 3 secondi in più può essere un'ottima combo proprio con questo gadget infatti vi dico che dato che tanto andremo a fare una terza partita per adesso lascio la prima abilità stellare e poi dopo andremo a provare pure l'altra comunque non so se avete notato che un sacco di mappe adesso hanno questi muretti che non si possono distruggere ma sempre più mappe sto vedendo che ce l'hanno eh allora vediamo vediamo un attimino cosa riusciamo a fare allora regà bellissima la skin è bellissima la skin è veramente veramente bellissima vediamo quanti danni fa però il gadget eh allora ho hittato ne ho hittato un altro boom 1500 cioè prendete voi tutti quelli che marchiate gli fate 1500 di danni così così poi nel dubbio gli fate 1500 di danni cioè regà devastante allora io credo che per riattaccarsi alle gambe dobbiamo risbloccare la ulti vediamo un attimo eh allora quello l'ho marchiato boom 1500 o no o gli ho fatto di più perché sono sono con la ulti aspetta eh aspettate eh regà aspettate voglio cercare di capire sta cosa ah marchio squeak ah no sempre 1500 raga col gadget sempre 1500 utilizzo la ulti mi riattacco al corpo e avrei guadagnato 1000 punti salute nel caso in cui non avessi avuto vita comunque marchiato lì squeak ma no regà di quanto non mi è entrata la hit 3000 di danno perché l'ho marchiato cioè la combo tra il gadget che fa questo danno e l'abilità stellare che ti permette di lasciare il marchio per 3 secondi in più agli avversari è una combo interessantissima per quanto mi riguarda è una combo veramente 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 interessante ora qui posso prendere tutte le gemme no 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 col cavolo no vabbè ho portato il colpo addosso a tutti a tutti i miei compagni no regà è veramente fortissimo allora torno guadagno 1050 di vita perfetto me ne torno a camperare e si va a vincere la partita veramente forte ragazzi veramente forte non è facilissimo da usare perché non è facile da usare cioè nel senso è difficile sfruttare tutte queste sue peculiarità cioè dovete saperlo utilizzare bene i marchi non marchi con i compagni in combo cioè è tanta roba ma non è così facile da utilizzare ma adesso proviamo l'altra abilità stellare che quindi quando siamo con la ulti sostanzialmente subiamo il 20% di danni in meno che è tantissimo proviamo anche l'altra skin eccola qui da poliziotto molto carina ok sta mappa non ha zone indistruttibili invece stavo vedendo fino adesso tutti i video che stiamo facendo con l'aggiornamento in anteprima abbiamo sempre visto comunque dei muri indistruttibili comunque i bot sono diventati fortissimi i bot guarda quanto gli dura il marchio e non ho e non ho più l'abilità stellare che gliene fa durare un bel po' eh cioè non è non è così scop... oh mio dio ma quando le piazzate tutte ste mine boh regà ma non ci ho proprio fatto... ma guarda questi ci stanno a pushare proprio così in base ma proprio cattivissimi ah vediamo andiamo a subire sti 20% di danni in meno poi c'ho pure la difesa regà quindi molto forte eh la difesa come equipaggiamento intendo cioè vedete una volta che io marchio il mio avversario vedete adesso io l'ho marchiato frank cioè gli vado a fare quasi 4000 di danno cioè regà ho distrutto frank con 3 attacchi penso sia l'unico brawler che con 3 attacchi può far fuori frank a meno che magari non utilizzi la ulti di shelly vabbè magari qualche altro attacco particolare sì no vabbè ci sono altri brawler effettivamente che possono farcela eh ci sono altri brawler che possono farcela però ragazzi cioè è pazzesco cioè quando utilizzi la ulti il fatto del marchio è qualcosa di incredibile cioè boom 1860 l'ho marchiato e non riesco a tirargli l'altra hit ma cioè vabbè regà guardate che stiamo a parlare cioè tra l'altro prima gli ho fatto anche di più perché c'avevo i danni aumentati cioè no ahia ahia torniamo nel corpo così riguadagniamo vita bellissima con questa skin regà eh anche questa è molto carina regà fortissimo veramente fortissimo ma ribadisco molto particolare da utilizzare detto questo ragazzi fatemi sapere la vostra sotto con un commento lasciando a me il mi piace per supportare questa tipologia di video vi ricordo il codice creatore GGY ti tutto attaccato nello shop di Brawl Stars fondamentale per supportarmi anche in tutti gli altri giochi Supercell iscrivetevi al canale se ancora non è stato fatto per non perdervi tutti i prossimi episodi per me è tutto ci troviamo domani con un prossimo video qui sul mio canale ciao ragazzuoli grazie a tutti grazie a tutti